I coreano compie l'impresa di giornata mandando a tappeto la capolista Ronco del Walsh che subisce la seconda sconfitta in stagione. Il poker dei padroni di casa mette in vetrino un super vitaiole e un super bucai, autore di una doppietta a testa. Per il coreano terzo posto consolidato a quota 50 punti, Ronco del Walsh invece riduce il suo vantaggio alle confronti del Duca ribelle a più 6 punti, ma la squadra di Montalti oggi appare decisamente sotto tono anche per via di una prestazione da incorniciare degli uomini di Zagnoli. Vediamo le immagini a cura di Eugenio Angeli, primo acuto del Tropical porta a lancio di Lici che cerca Farnetti quale buca l'appuntamento con il pallone. Il Ronco del Walsh replica con il tiro di Camporesi che complice anche il goffo intervento di Romani causa più di un brivido alla porta di casa con il pallo a salvaguardare proprio l'estremo locale. I coreani invece va vicinissimo a bersaglio poco dopo con Farnetti, ma Calderone è super l'attivo nell'intervento, replay meritato per l'ex Atalanta, Torino e Cesena. Due timide repliche per il Ronco con Grisolini e Bernacci, entrambe sventate dalla difesa corianese. Nella ripresa il Coriano dalla quarta passa alla quinta marcia, Farnetti appoggia per Passini, cui traversone viene colta in volata dalla corrente Borghini che sfiora la marcatura. Mai gol nell'aria, Borghini in esca vita Ioli che supera di testa Calderoni prima che Passini appoggi solo per sicurezza i palloni in fondo a sacco per l'1-0 Corianese. Bernacci dall'altra parte fa sportellate con tutti, ma Romani si fa trovare pronto, neppure il tempo di provare. A combinare una nuova occasione da rete che il Coriano non perdona, Farnetti in contropiede e segue lo scavetto che supera Calderoni prima che i vitaioli si assicuri che la sfera entri dentro la porta. 2-0 e personale doppietta per il nazionale sanmarinese, prestazione davvero da incorniciare anche per lui. Dal corner il Coriano si fa nuovamente sotto con Farnetti che sfiora la terza marcatura, poi la volta di Ricci, conclusione angolata, Calderoni respinge e sulla ribattuta proprio Ricci trova la mano di un avversario guadagnando un calcio di punizione dal limite dell'esecuzione senza incarica il neoentrato Vukai che indovina l'angolo vincente nel set alla sinistra di Calderoni. E' esultanza meritata anche per lui. Nel finale uscita spericolata di Calderoni con tanto di passaggi in direzione Vukai che non tradisce l'appuntamento con la rete siglando la sua personale doppietta 4-0 per il Tropical Coriano. Il Coriano a questo punto festeggia l'impresa con una grandissima prestazione. Per il ronco del Wais gara da dimenticare quando anche metteranno Calderoni e in vena di regali si capisce che la giornata è di quelle nere. Grazie!